Mancanza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, mancanza di fondi per poter tamponare il caro affitti, quindi quello che ci si può aspettare è l'esplosione degli sfratti per morosità e problematica anche per la tenuta e la coesione sociale dei nostri comuni e delle nostre città. È la situazione prospettata dal Sunia, sindacato degli inquilini, alla luce dell'azzeramento delle risorse per il contributo affitti e per la cosiddetta morosità incolpevole contenuto nella legge nazionale di bilancio. Noi siamo sterefatti e allibiti che il governo abbia fatto un provvedimento di questo tipo. In Toscana arrivavano circa 20 milioni di euro, ecco quei 20 milioni di euro che erano uno strumento fondamentale contro l'emergenza abitativa non ci saranno più. Si parla di circa 22 mila famiglie nella regione toscana, 1.800 sono il numero delle persone che avevano fatto il contributo affitti nella provincia di Pistoia e circa 600 persone nel comune di Pistoia, tutti i cittadini che nei prossimi anni non avranno a disposizione i fondi del contributo affitti. Come conseguenza ci sarà sicuramente un aumento degli sfratti per morosità che sono circa 10 mila in tutta la regione toscana e quindi questo provvedimento avrà degli effetti veramente devastanti. Chiediamo, oltre che al governo, ma chiediamo anche ai comuni, a Lanci che in questi mesi, probabilmente in questi giorni non ha protestato come avrebbe dovuto, cioè di impegnarsi per vedere come trovare delle soluzioni.